Allora, oggi è la terza volta che mi capita di prendere il Chieti Pescara per lavoro, l'autobus è tua e praticamente è la terza volta che siamo costretti a cambiare mezzo perché praticamente il mezzo si sfascia e quindi voglio dire, in pochi giorni tre volte cambio l'autobus, ma io direi meno consigli di amministrazione e più servizi ai cittadini.